Anche i sopprusi più folli, anche le situazioni più assurde, cerchiamo di rimanere integri, cerchiamo di non essere violenti, cerchiamo di avere la ragione, di non perdere la testa, ma a volte davvero diventa difficile non tenere la situazione. Io per esempio mi sono abituato ad avere la mia testa decapitata in mano e quando le persone mi chiedono come si fa a cambiare questo paese, questa domanda che non ho una risposta, poi non so perché la chiedono a me, come si fa? Che ne so come si fa? Magari bisognerebbe più investire nelle attività culturali e un po' meno in quelle imprenditoriali, intanto per cominciare. Non lo dico perché sto per cambiare, lo dico perché io credo nella cultura, questa parola che viene sempre tirata fuori, sfruttanata ai 4-20, intanto che perde di valore, ma io credo nella cultura e sono convinto che come me tante persone credono nella cultura! Voi siete d'accordo con questo discorso? Sì! Ecco, vi ho fatto questa domanda perché in questo momento dello show parte un monologo teatrale di 72 minuti. Voi siete d'accordo con me, quindi mi preparo per questa pièce teatrale che generalmente è una performance che si fa con il teschio in mano, vabbè famosissima, e la testa sulle spalle, ma io ragiono al contrario, spesso metto il teschio sulle spalle e la testa in mano. E' il mio momento, devo riscattarmi, dopo il film di Checcozzalone, devo riscattarmi nel teatro? Essere o non essere, questo è il problema, dormire, morire, forse sognare. Caminare! Caminare! Scimare! Saludare! Comparare! Ciurare! Scuola di mare! Bantare! Comparare! Comparare! Iniguare! Ok, terminare! Terminare! Cessare! Finire! Interrompere! Bloccare! Bloccare! Terminare! Terminare! Finire! Bastare così! Bastare! Bastare così, siamo... Terminare! Bastare! Bastare! Terminare! Bastare! Basta! Bloccare! Difficile leggere Shakespeare! Leggere Shakespeare! Bloccare! 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 Strat expecting! Scoggio della pena! Tinando che cos'è? Ha riuscì per il da. Foggia vigilando era perché mi tolgo le respiro? Hai sistemi operativi. Doe preferisco il piro! Tu sei la sala è piena? Tra che ha channels! Andiamo! Insieme a casa è una cosa da superti! Altrimenti con un limite si fanno infanzare dai germi In questa casa non è sempre più facile i costruiti Per tutti i frutti spalla più degli acidi che assomigli Le persone con i gialli sono tutti un po' comune Siamo tutti un po' comune e tutti un po' comune Non mi interessa essere capito, non mi interessa essere capito Non mi interessa essere capito, non mi interessa essere capito Non mi interessa essere capito Alle votazioni e gli indecisi sono decisivi I colletti e gli altri stavano in un atto di collettivito Vedi Santa ma dappertutto, sei 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 il pazzo Il mio ultimo piano sarà salire sul terrazzo Non battaglia da vivere, non battaglia da morire Sono una terraffanotto quando arriva il mio mire Puoi fare accordi con tutti ma non fatti con il sire Non fatti con il sire, non fatti con il sire Non ho voglia di andare d'accordo o voglia di andare d'accordo Non ho voglia di andare d'accordo o voglia di andare d'accordo Non ho voglia di andare, non ho voglia di andare d'accordo Fai rischi di denuncia, fai rischi di denuncia La parola spesa è più importante di chi la pronuncia Quando la mia voce ti molesta, gli acule godo Io sarei un ragazzo a modo, se solo ci fosse un modo Ma per noterlo in tanti, ti sorrido mentre a fogo Ti sorrido mentre a fogo, ti sorrido mentre a fogo Ti sorrido mentre a fogo, ti sorrido mentre a fogo Per provare qualcun fa più Oh, 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 oh Hey, 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 hey Hey, 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 hey La, 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 la Grazie a tutti.